Riprende il percorso per consentire il prolungamento della linea 4 della metropolitana di Milano verso Buccinasco e se possibile anche fino a Corsico, Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio. Una scelta strategica per lo sviluppo della mobilità sostenibile, oggi sempre più urgente e indispensabile. Abbiamo ripreso su sollecitazione anche del nostro comune, in concertazione con i miei colleghi di Trezzano sul Naviglio, Cesano Boscone e Corsico, la ripresa dello studio per il prolungamento della M4 a Buccinasco e nei comuni del sud ovest Milano. Ci sono stati presentati nella fase preliminare ben sei progetti, sei studi di fattibilità. Ci stiamo orientando verso quello più lungo, cioè quello che toccherebbe tutti i comuni coinvolti. La M4, i lavori ci assicurano da Milano che sono in orario e entro il 2023 ci dovrebbe essere l'inaugurazione con il percorso dall'Aeroporto di Linate fino a San Cristoforo. Quindi noi spingeremo in tutti i modi possibili perché si pensi subito a un prolungamento. Ci sono stati anche prospettati i costi che per un'opera del genere non sono proibitivi, si parla per arrivare a Trezzano sul Naviglio di circa 500 milioni di euro. Chiaramente questi soldi dovrà metterli lo Stato e potrebbe approfittare del Recovery Fund dove ci sono addirittura 40 miliardi di euro disponibili per la costruzione di infrastrutture di questo livello. Noi riteniamo che è così che vadano spesi i soldi europei perché questo territorio, come tutti sanno, non ha nessun tipo di infrastrutture metropolitane. Pensate che per M4 si sta parlando di un treno ogni 90 secondi e intersecherebbe poi tutte le altre linee di metropolitana ma anche il passante ferroviario. Quindi riteniamo che sia arrivato il tempo che il governo di Roma, la regione Lombardia e la città di Milano si facciano carico immediatamente per la progettazione esecutiva che costa diversi milioni di euro e subito dopo del finanziamento.